Le bandiere gialle e azzurre sventolano sulla spiaggia di Rimini, le hanno issate i bagnini in segno di vicinanza al popolo ucraino. Oltre 1.200 i profughi arrivati qui in fuga dalla guerra, 591 donne, 580 bambini, 46 uomini solo per stare ai dati ufficiali. In gran parte sono ospiti dei 5.000 ucraini che da anni vivono e lavorano nel riminese. Molti rifugiati però non sono ancora stati censiti. Il prefetto invita tutti a presentarsi in questura o dai carabinieri per ottenere protezione e assistenza. Questo dato servirà sia per lo screening sanitario ma anche per l'orientamento scolastico perché ci sono tanti minori insieme alle mamme. La uslo offra tutti tampone e vaccini contro il covid ma anche il morbillo, la tubercolosi, la poliomelite. Una corsa contro il tempo in previsione di arrivi ancora più massicci. I numeri sono altissimi ed aumentano tutti i giorni. Siamo passati dall'emergenza covid all'emergenza profughi. Oltre 300 i profughi accolti negli alberghi che hanno offerto ospitalità immediata, 27 ora sono convenzionati con la protezione civile. Noi cercheremo di incentivare i casi. Quindi il fronte alberghi è un fronte che servirà a mettere nelle condizioni il ministero dell'interno e le prefetture e quindi anche attraverso tutti gli enti locali il riperimento di più strutture possibili e immaginabili per il lungo periodo. L'accoglienza che è stata data finora da famiglie è sicuramente incumiabile. Naturalmente non è previsto alcun tipo di rimborso finché queste strutture non rientrano nella rete di accoglienza.